Ecco, infatti, anche... esatto. Monica, quello che ti avevo detto prima, no, anche se non fai niente, lei pensa che tu possa fare qualcosa, ti fa... No, no, no. Allora, vogliamo, prima di, insomma, molto velocemente dare il benvenuto alle piccoline, vogliamo dire che Bossi si è particolarmente innamorato di Giussi, che si sta chiedendo cosa vuole da me. Gliel'ho spiegato, ma, insomma, poi lascio... Tiziana, Tiziana che già ha provato glielo sta spiegando. Monica è rimasta un attimo dubbiosa per lupa. E vabbè, ragazzi, è particolarmente buio. Comunque, ciao! Sono arrivate le piccoline, purtroppo... Guardate gli occhi di Penelove, di Penny, perché dobbiamo cambiare il nome. Allora, sono arrivate, tutte pissiate e cagliate, perché hanno avuto tanta paura durante il viaggio nel trasportino. Stanno attualmente per terra, perché aspetto di asciugarle un attimino, di pulirle, perché loro hanno una brandolla che vi ho fatto vedere prima, non si vede, mo. E quindi per non impregnarle, praticamente. Ciao, amore! Ciao! Ciao, piccine! La riccia non si vede. Ragazzi, comunque, cioè, sono un sogno, eh. Sono delle bellissime bamboline. Io sono un po' emozionata, perché è una bella responsabilità, ma anche una lunga attisa, che ci vede tutte quante unite per loro, affinché veramente, cioè, non per retorica, le vediamo correre con gli altri, fidarsi, così non possono stare. Cioè, loro al momento si bastano, ma non basta a noi vederle in queste condizioni. Ce la faremo, per il momento, visto che è buio, insomma, grazie a chi li ha mandati da qualcuno che si sente un attimo emozionato. Grazie della fiducia, grazie da loro per aiutarli, perché effettivamente senza di voi, cioè, io mi rendo conto che sono veramente un caso, un caso tanto triste. Però ve lo prometto, ve lo prometto che due settimane ancora, due settimane per essere veramente già tanto quello che non siete fino ad ora. Ok? Ciao, amore mie. Ciao, amore mie. Eh, ciao, ciao. È buio. Avete fatto un viaggio. Eh? Io non riesco a vedere, però. Scusa, ma per vedere gli occhi della riccia che si fa? Ci fa una pila. Amore? Vabbè. Ciao, amore mie. Ci vediamo domani mattina.